Primo round dell'udienza preliminare al Tribunale di Latina che vede come indagato un professore di religione di Terracina accusato di violenze sessuali aggravati nei confronti di cinque studenti di un liceo al momento dei fatti minorenni. All'udienza il gruppo Morselli ha accolto la costituzione di parte civile del garante dell'infanzia regionale. Sì, molto complicata, in primis purtroppo vede protagonisti ragazzi minorenni d'età e poco più che maggiorenni, insomma appena maggiorenni, quindi giovani adulti, per cui sì, estremamente delicata e dolorosa direi. Si svolgerà anche un incidente probatorio la prossima settimana, le vittime degli abusi saranno chiamate a raccontare ciò che avrebbero subito. Il garante da me tutelato è stato ammesso come parte civile, l'ennesimo riconoscimento dell'attività del garante nonostante l'opposizione da parte della difesa dell'imputato che è stata superata mentre la diocesi non è stata chiamata come noi avevamo detto come responsabile civile, il giudice non ha accolto la nostra richiesta in quanto ritiene che non c'era un rapporto di lavoro contrattuale con il frateschi in quanto per fare il professore di religione la chiesa aveva dato semplicemente una sorta di patente. Grazie. 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 Grazie.